Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 per traffico, rallentamenti in direzione nord tra Calenzano e BV1 Variante, in carreggiata opposta coda tra Barberino e Calenzano. Ci spostiamo sulla Firenze Mare dove troviamo codi a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e BV11A1 e per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto in direzione di Firenze. In Fipili, un chilometro di coda per lavori tra la Strassigna e Girestra nella carreggiata in direzione mare, per chi proviene da Firenze, inoltre coda in uscita a Firenze Scandici. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi ricordiamo di guidare con prudenza nel rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità, anche nelle zone 30. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!